Diabete, inquinamento atmosferico e frequenza di consumo di alcolici. Questi sono i tre principali fattori di rischio modificabili associati allo sviluppo di schizofrenia e malattia di Alzheimer, almeno secondo uno studio appena pubblicato su una delle riviste del circuito Nature, anche se in realtà va detto che questa è una descrizione un po' semplificata della ricerca condotta da un team guidato dalla professoressa di Oxford... No, guarda, non ci provo nemmeno a indovinare la pronuncia, andiamo avanti. In realtà dovremmo infatti dire che lo studio è stato condotto con l'obiettivo di esplorare come alcune regioni cerebrali particolarmente sensibili ai processi di invecchiamento e di sviluppo di schizofrenia e malattia di Alzheimer siano influenzati da fattori genetici e, almeno per noi più interessanti, fattori di rischio modificabili generalmente associati allo stile di vita, come ad esempio pressione del sangue, colesterolo, fumo, qualità del sonno, qualità della dieta, eccetera. Per usare le parole degli autori si è voluto valutare come e quanto questi fattori siano in grado di colpire le parti più fragili del cervello. Per condurre l'analisi sono stati usati i dati di circa 40.000 inglesi e quello che ne è emerso è che diabete, inquinamento atmosferico e frequenza di consumo di alcolici sono i tre fattori modificabili più strettamente associati allo sviluppo di problemi. Questi tre mostrano ciascuno un effetto circa doppio rispetto ai successivi fattori di rischio, disturbi legati al sonno, peso, fumo e pressione sanguigna. Lo studio ha sicuramente diversi limiti e purtroppo per come è stato condotto non è nemmeno possibile confrontare l'impatto tra fattori genetici e alcolici, ma su questo ci torniamo dopo. È invece utile sottolineare prima di partire almeno tre premesse importanti. La prima, perché il diabete sarebbe modificabile? Beh, perché se parliamo di diabete di tipo 2 non si può negare come sia legato nella maggior parte dei casi allo stile di vita. Secondo appunto importante, ti ho detto che sono fattori associati allo sviluppo delle malattie, non ho detto che li causino. Studi di questo tipo possono infatti solo far emergere associazioni, ovvero non ci dicono che i primi causano i secondi, ma solo che i pazienti che ne sono affetti sono, passami la semplificazione, statisticamente un po' troppo spesso caratterizzati dall'avere diabete, dal vivere in zone inquinate o dal consumare alcolici con maggior frequenza. Terza e ultima cautela, la nostra comprensione della demenza di Alzheimer è limitata, estremamente limitata. Ignoriamo le cause scatenanti, i meccanismi biochimici sottostanti e non disponiamo nemmeno di cure efficaci. È paradossale e tristemente ironico come questa malattia che erode la nostra capacità cognitiva rimanga avvolta nel mistero, quasi come se un sortilegio ci ostacolasse dal comprendere e sconfiggere proprio quel declino mentale che cerca di nascondere. Se è tutto così opaco, perché lo studio merita comunque la nostra attenzione? Forse il nostro destino è già scritto nella genetica? E allora ciao, tanto vale godersi la vita, no? No. Purtroppo, per fortuna, no. Per la maggior parte di noi non c'è praticamente nulla di già scritto. È del 2020 un report pubblicato su The Lancet in cui gli autori concludono che l'insieme di 12 fattori di rischio modificabili, modificabili, è responsabile del 40% dei casi di demenza nel mondo, quasi uno su due. Gli stessi autori sono poi lapidari quando scrivono che le iniziative di sanità pubblica volte a ridurre al minimo i traumi alla testa e a diminuire il consumo di alcol potrebbero potenzialmente ridurre la demenza ad esordio giovanile e in età avanzata. Quando si parla di alcolici come rischio di salute si assiste a una levata di scudi, ma purtroppo ad oggi è indiscutibile il ruolo di questa sostanza nella genesi di decine di malattie. È oggettivamente indiscutibile. Ma prima di continuare vorrei chiara forse una premessa importante. Ad essere sul banco degli imputati non sei tu che bevi più o meno responsabilmente. È la sostanza. I ricercatori non stanno in alcun modo giudicando né te né tanto meno il comportamento. Giudicano la sostanza. Nessuno nega il ruolo di lubrificante sociale che il vino esercita da secoli. Nessuno nega l'importanza dell'industria vinicola in Italia. Nessuno nega che il consumo possa essere semplicemente banalmente piacevole. Ma con le prove attualmente disponibili rifiutarsi di accettare che l'alcol sia dannoso a qualsiasi dose è semplicemente negare la realtà dei fatti. Credo e spero che ad oggi nessuno sottovaluti più i pericoli associati al fumo. No? Ma l'alcol non è da meno. Non è in alcun modo diverso e purtroppo non offre alcun vantaggio di salute. Nessuno. Una revisione sistematica del 2019 conclude che sebbene non sia stato possibile stabilire un rapporto di causa-effetto il consumo dal leggero moderato di alcol nella mezza e tarda età adulta è stato associato a un ridotto rischio di deterioramento cognitivo e di demenza. Il consumo eccessivo è stato invece associato a cambiamenti di strutture cerebrali, a disturbi cognitivi e ad un aumento del rischio di tutti i tipi di demenza. Ok, se bevo troppo aumenta il rischio di demenza, ma invece questa è la prova che bere il giusto faccia bene. Purtroppo non è così, perché anche in questo caso non è possibile stabilire un rapporto di causa-effetto e soprattutto valutando questo lavoro nell'insieme di tutta la letteratura disponibile non è azzardato ipotizzare che in realtà un consumo moderato sia semplicemente meno rischioso di un consumo elevato, secondo il più classico rapporto dose-risposta, oltre a essere quello tipico di fasce di popolazione che presentano anche molti fattori protettivi, soggetti benestanti, magari con uno stile di vita attivo in cui il consumo di alcolici sia occasionale, addirittura funzionale a una ricca vita socio-culturale, insomma un po' come il bicchiere di vino rosso nella dieta mediterranea, che non fa bene, ma che grazie alle quantità in gioco non fa abbastanza male da compensare in peggio l'insieme delle altre abitudini sane. E se ti è venuto in mente il paradosso francese, sì, il quadro è esattamente lo stesso, oltre a essere anche la spiegazione più ragionevole delle conclusioni degli studi osservazionali degli anni precedenti, che attribuivano all'alcol un effetto protettivo a basse dosi. Insomma, la dieta mediterranea, nel senso più ampio possibile del termine, comprendendoci anche gli aspetti sociali, spirituali e quelli legati all'attività fisica, probabilmente fa bene nonostante moderate quantità di alcol, non grazie a queste. Comunque guarda, lo ammetto, sulla demenza non è ancora chiarissimo l'effetto di un consumo lievo, diciamo moderato, anche se in realtà tutto porta a pensare che la traiettoria del consenso scientifico seguirà quanto appena descritto per il cuore, ovvero che arriveranno studi condotti con tecniche più rigorosi, capaci di controllare i fattori confondenti, che potranno confermare una verità più drastica e quindi più preoccupante. Ma restiamo sulle conoscenze attuali e ammettiamo, per amor di ragionamento, che effettivamente, sebbene non ci siano più particolari dubbi sui danni di un consumo eccessivo di alcolici, un consumo moderato possa invece essere addirittura protettivo sul cervello. Questo è sufficiente per dire che consumare alcolici in quantità moderata sia innocuo o addirittura utile? La risposta è di nuovo un secco no e questo lo sappiamo per certo. Primo, esiste un robusto consenso scientifico sul fatto che gli alcolici possano essere causa di diversi tipi di tumore, tra cui testo e collo, esofago, ovviamente fegato, colon e seno. Secondo, nonostante sia un mito troppo duro a morire, bere non fa bere al cuore e no, nemmeno a basse dosi. Anche in questo caso le prove sono ormai evidenti, schiaccianti direi e tra le tante, guarda, posso citarti questo bellissimo lavoro di ricerca che ha girato i problemi etici legati a studi randomizzati con la randomizzazione mendegliana, un modo semplificato per dire semplicemente che aggiriamo le difficoltà di ricerca che abbiamo descritto prima e che conclude così. Il consumo di qualsiasi quantità di alcol è associato ad un aumento del rischio cardiovascolare. Insomma, studi più rigorosi mostrano, dimostrano una realtà differente da quella sperata. Potremmo continuare parlando di depressione, violenza, incidenti, perdite di memoria e altro, ma penso che il concetto ormai sia chiaro ed è per questo che ormai tutte le società scientifiche nazionali e internazionali sono concordi. Non esiste una dose sicura e totalmente innocua e se non bevi non c'è ragione per iniziare. Piccola curiosità, fino a qualche anno fa si pensava che l'aumento del rischio fosse lineare, ovvero che ogni quantità aggiuntiva di alcol aumentasse il rischio in modo uniforme, mentre ad oggi si è più portati a pensare che il rischio cresca esponenzialmente, ovvero accelerando con il rischio che aumenti in modo via via più rapido e marcato all'aumentare del consumo. Questa è peraltro una delle ragioni per cui un consumo occasionale o comunque diciamo molto leggero viene ancora tollerato dalla linea in guida, che tuttavia non cambia il concetto di fondo. Se il consumo si limita al brindisi di capodanno, l'aumento del rischio c'è comunque, ma è significante dal punto di vista pratico, mentre un bicchiere di vino rosso al giorno è semplicemente meno rischioso che berne due, non innocuo e certamente non utile. La medicina non può che essere spietatamente obiettiva, mentre le linee guida ne traducono in numeri le conclusioni, interpretandole e soprattutto calandole sul quotidiano, tracciando cioè un limite ragionevole e valido a livello di popolazione, eventualmente soppesandone anche gli aspetti sociali, culturali, tradizionali. Questo è uno strumento che ci viene offerto, ma ovviamente alla fine la scelta sul sé, come, quando, quanto bere non può che rientrare nel campo delle valutazioni personali, perché necessariamente legata al nostro stile di vita, alla presenza di altri fattori di rischio di salute, non meno importante anche al valore che noi gli attribuiamo, su cui ovviamente non mi permetto di disquisire. Ma se parliamo dell'alcol da un punto di vista meramente preventivo, la conclusione non può essere democratica, non esiste una dose sicura, ed è importante diventarne consapevoli come lo siamo per le sigarette o, ancora più banalmente, come lo sappiamo per un accesso di alimenti fritti, consapevolezza che per inciso ieri non mi ha impedito di esagerare con le patatine, ma questo è un altro discorso. E allora, tutte le volte che deciderai di versarti un alcolico nel bicchiere che hai davanti, il ragionamento dovrà essere sempre lo stesso. Ne vale la pena? E bada bene che la mia non è né una domanda retorica, né vuole essere una provocazione, perché la risposta non può che essere soggettiva, ma con un'importante differenza rispetto ad altri alimenti. L'alcol può dare dipendenza e questo significa che la scelta, beh, potrebbe non essere più così libera come pensi. E dipendenza non è necessariamente sinonimo di alcolismo, guarda che la dipendenza può essere molto più subtola e strisciante. Come ha scritto il fisico Max Planck, la scienza procede un funerale per volta, suggerendo in modo figurato che i cambiamenti radicali del pensiero scientifico spesso vengono accettati solo quando le vecchie generazioni di ricercatori attaccate alle teorie precedenti che sicuramente hanno contribuito a plasmare, a costruire, vengono sostituiti da nuove generazioni, più aperte alle nuove idee. Fortunatamente oggi la situazione sta migliorando, ma è un lavoro che dobbiamo fare anche dentro di noi, accettando che qualche preconcetto, forse legato a qualche antipatico bias di coerenza di cui tutti inevitabilmente si offriamo, e io per primo, anche se magari su altri argomenti e non sull'alcol, vada superato. E questo significa accettare che il consumo di alcolici ad oggi non ha più alcuna giustificazione razionale dal punto di vista della salute. Non ti è bastato? E allora, ecco tre semplici regole per prevenire lo sviluppo di demenza, e invece qui una sfida che ci lancia il Dottor Rosso. Ma soprattutto, grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire nel tuo medico curante e nel tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto per davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!